ciao ragazzi io sono celopisis oggi siamo qui di nuovo su multicraft dopo pochi poche ore si perché siamo di nuovo qui perché master randy mi ha chiesto di giocare ancora perché lui vuole giocare ancora e allora si giocheremo ancora faremo ancora tre episodi e poi basta comunque si aspetta che così ok una canna da pesca è grande come pesa la canna da pesca ok comunque contro il v contro il v figlio di colonnello cosa un attimo ragazzi è ok dobbiamo creare un mega rifugio più in basso perché qui potevano trovarci facilmente e poi dvd dvd ok e poi divido che non ho finito di copiare tutto quanto pare fatto nel re tecnico ok vediamo potremmo fare un qualcosa più in qua molto più in qua ancora più in giù ok di qua serve un piccone ok ragazzi oggi facciamo super mega rifugio iper galattico con forza in immaginabile ok quindi cominciamo ok tipo questo che adesso qui potremmo dare bene ma non così lungo fermati oddio dove sta andando non vedo niente ok così è un pochino grande così va bene ok ora dobbiamo scavare solo così sono i passati i griffier uh sento pecore cerco di fare una scaletta vuoi fare una scala tipo di sopra perché magari voglio vedere dove siamo qui iscriviti ma è una mia galleria Ok, possiamo perdere Era soltanto un testo Ma chi è piccolino? Ok Ho del ferro? No, non ho del ferro Eh, c'è un problema Capito Ok Ok Vado su A Prendere Tutto Ok Vado su a prendere luce Ok Spendiamo tutto quanto Ok, i cartelli Aspetta, devo fare un A Do Ma dopo In che senso dopo? Oddio, son pieno Ok Questo può essere un problema Piume, addio Spaghetti, addio No, spaghetti, no Ok, devo andare subito giù Eh, ma se ne hanno detto che dovevo fare una cosa che se ne andava Quindi Dovrebbe rientrare dopo, non so Ah no, è qui Eh Ancora un pochino più qua, eh Però Almeno di due Solo Solo Di Mastere L Cosi Ah, alletto dopo Ok Ciao Che fa? Eeeh Non sparisce Eeeh Puff, no Puff, no, va bene Puff, no Va bene, forse resta un po' qui Udio Che? A me serve urgentemente un buco Eh sì, un buco Un legno Udio Non abbiamo legno ragazzi Non abbiamo legno Non abbiamo legno Vado a prendere legno allora Udio Sento zombie Ah Vabbè Probabila risolto Ah no 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 Cavolo Senza legno Io qua Come faccio? Come faccio? Vediamo un po' La Niente Oh mio Dio Che albero enorme Allora a me serve Del legno urgentemente Se vale là però ha paura che tipo ci sia qualcuno Vediamo se trovo un albero più vicino E intanto voglio di fame e non me ne accorgo Ragazzi Ok Va bene ora sta meglio Vediamo un po' Piantiamo l'albero qui E io dovrei andare a fendere il legno Però non so dove fendere Oh però qua chiudiamo perché magari La steranda e poi si ritrova degli zombie addosso Perché io lassù non ci voglio andare C'è un castello enorme E io dovrei starci per tenso Vado dove c'è Veloce Ok Eccomi ce l'ho Ok sei intorno a nì Sei intorno a nì Ah Sono occupata adesso e non ti rispondo un secondo Ok No non mi ha dato nulla Ma dai Non ci credo Vabbè Porca c'è Cielo ci sei Eccomi Un attimo Sono un po' occupato A uccidere polli Lo zucchero non mi faccio nulla Ok Ok direi che posso ritornarmi a casa Oddio che è quello Ah è uno scheletro Mi mi ero preso un colpo Hai uno scheletro? Questo? Non mi ha dato nessuna armatura Non mi ha dato nessuna armatura Tutto tu non mi vedi Cretino Potevo chiamare in pace Ma io non ho mica una vita facile Ok adesso devo ritornare su Infatti Mico lo scheletro Mi ha preso uno spaventa Non pensavo Che fosse lo scheletro Fantastico Ok Ci so Proca spetta di alberelli Non ne ho presi Allora questo qui me lo tengo io per un po' Oddio Oddio Vai ok Ok Ci sono Ci sono Ci sono Ok Ma Ma viene da qua? Vabbè Ciao Ok Non viene da qua Ok quindi C'è sta Puz puz dove è il legno C'è sta Puz 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 Sento mob E io pure Ok Quanta coble son c'ho Ok E vai Libero Pieno Cioè vuoto Adesso E ora possiamo Veramente Cominciare A organizzare Vabbè fa lui Tanto adesso Mi chiedo più con il nuovo Aha Io sono pronta Tutto Ho visto Ce l'avevo già Pizzone Fanno due Fanno due Di ferro Ok 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 Allora No qui ci avevo Messo io Dei Dei Vabbè Ok Adesso la prossima cosa Dove fare E l'angolo Delle fornaci Che sarà Qui Ok ragazzi Direi che Però oggi può bastare Quindi ragazzi Passate qui Delle fornaci